Eccoci qui, ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare a numerosi, di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte. Attivate la campanella, numerosissimi mi raccomandi, iscrivetevi anche al mio canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione. Per collaborazioni commerciali mandate una mail a milanielolive.com, promuovere un'idea, un marchio, un prodotto, un'azienda, una pagina o un canale, YouTube ad esempio. Allora ragazzi, nel video di questa mattina ho detto, riendo e scherzando, siamo già al 4 aprile, no in realtà no, al 4 luglio, però insomma, sono momenti un po' particolari, ecco, quindi pardon. Allora andiamo subito sulle novità, perché potrebbe essere un momento positivo, non per questo ma completiamo raccontando innanzitutto che cosa, che Pellegrino potrebbe andare in prestito all'indipendiente, ovviamente non si monetizza da Pellegrino che ha fatto una stagione pessima in Serie A tra Milano e Salernitana. Le aspettative erano diverse, è stato un colpo a oggi decisamente sbagliato, seppur non così costoso, ma è costato ad esempio l'operazione Calafiori, che Milano aveva in pugno, poi ha optato per Pellegrino, ritenendo che poi l'uscita di Balloture avrebbe liberato lo slot, slot ideale, ecco, simbolico per Calafiori. Poi Balloture è andato via dopo la chiusura, Calafiori è rimasto al Bologna, dove ha fatto una stagione strepitosa, e ora sembra che possa andare all'Arsenal, molto vicino all'Arsenal, e non alla Juve, questo non mi dispiace, ecco. È chiaro che poi se l'Arsenal prende Calafiori, la Juve può andare su qualche giocatore che piace anche al Milan, come ad esempio Kivior, del quale abbiamo già parlato, che tra l'altro Tiago Motta aveva avuto ai tempi dello Spezia, come suo difensore che aveva lanciato prima del suo prodo ai Gunners in Premier League. Sempre per quanto riguarda uscite, non è più il nostro giocatore, ma abbiamo il 50% sulla futura rivendita, Bagarre sfida tra Fiorentina e Atalanta per Brescianini, con una valutazione che potrebbe essere davvero di 12 milioni di euro, e quindi a quel punto il Milan incasserebbe la metà, la bellezza di 6 milioni di euro per Brescianini, secondo me sarebbe una buona operazione, mai avrei detto che il primo anno in Serie A l'avrebbe fatto così bene, avevo sott'occhio come tutti, credo, un amichevole che aveva fatto con il Milan l'anno prima, era stato negativo, però con i giovani bisogna avere pazienza, magari Brescianini diventerà pure lui un rimpianto, ecco. Vediamo un po' che cosa succede. È un buon giocatore che ci poteva stare, magari, ecco, l'avessimo ancora nostro, avremmo potuto far partire Pobega, che dopo qualche anno abbiamo capito essere quella cosa lì, cioè, un giocatore più da, magari, Fiorentina-Torino, eccetera, e magari tenere a Brescianini, che era un po' più rampa di lancio, anche se poi non è detto che avrebbe fatto bene con la male del Milan, così come ha fatto bene quest'anno con il Frosinone, però possono arrivare 6 milioni di euro da Brescianini. Abbiamo parlato poi questa mattina, e adesso andiamo su Joshua Zirze, di quello che dovrebbe essere il primo colpo, la prima operazione. Attenzione, io per colpo non intendo colpo. Lo definirei un grandissimo colpo. Il colpo è quello che prendi, cioè l'acquisto, è sinonimo di acquisto, quindi non sto dando una connotazione estremamente positiva al termine colpo. Il colpaccio, il colpo clamoroso è quello che, caspita, come sarebbe appunto Zirze. Cioè Emerson Royal, che dovrebbe arrivare, almeno l'accordo con lui è stato trovato, per 5 anni, quindi contratto di 5 anni, scadenza importante, a 3 milioni di euro a stagione. Quindi ingaggio per i parametri Milan è medio, forse qualcosa di più di medio, però sicuramente abbordabile, ovviamente senza decreto crescita. Questo ormai lo sappiamo che non si può usufruire del decreto di vantaggi fiscali perché arriva da fuori, ma soltanto per chi è ancora qui lo sta utilizzando e si può utilizzare. Emerson Royal, ragazzi, si arriva e potrebbe essere già oggi il giorno dell'accordo con il Tottenham o domani. L'idea è quella di provare a portarlo per il giorno del raduno, comunque nel weekend, quindi il tempo stringe, perché oggi è giovedì. Spero di non sbagliarmi almeno su questo. Su Emerson Royal, devi sperare che ci abbiano visto bene. Io ricordo tanti casi in cui dici, ma chi portiamo a casa? Kier, ma dai, non gioca neanche in Atalanta e Kier ci ha cambiato la vita. Altri casi in cui invece dicevamo, ma no, cosa prendiamo a fare? Avevamo ragione. Qui è speranza che in Italia possa fare la differenza, che Fonseca lo possa disciplinare a livello tattico. È chiaro che però non sarebbe un nome altisonante. Cioè, rispetto ai colpi che hanno fatto le altre, come livello sarebbe inferiore. Rispetto a Douglas è un profilo inferiore. Non sto dicendo per... Non è un pari ruolo, ma come concetto, come livello, come categoria probabilmente, ecco, sicuramente più esperto rispetto a Turam, ma Turam ti dà sensazioni più positive. Zielischi e Taremi hanno profili superiori. Le operazioni, citando citando il nostro amministratore delegato Furlani, poche mirate chirurgiche devono essere però di livello. Emerson Royale sulla carta, ripeto, sulla carta, felicissimo, si poi fa benissimo, diventa il nuovo Marco Scafù, sulla carta non è di questo livello qui, è di un livello medio. Per quello che ha dimostrato in carriera oggi, poi a 25 anni ha girato breve parentesi al Barça e poi al Totem, non è da tutti. Però come rendimento ecco, nulla di che. E gli interventi chirurgici mirati dovrebbero avere tutti un livello alto. Poche cose, ma più buone, a differenza dello scorso anno. Altrimenti torniamo sulla falsariga dei tanti con il taglio del 20, milioni di euro, però non ti cambiano la vita. Meglio qualcuno in meno, ma di livello superiore. Ecco, a questo proposito, è chiaro che il livello superiore, per tanti, non per tutti, perché non tutti la pensiamo ugualmente, si chiamerebbe Joshua Zirze. E qui c'è un intreccio particolare con Pioli, perché come sapete Pioli ha raggiunto l'accordo con il club arabo, che gli darà un sacco di soldi, mi sembra che si, la Litiad, mi sembra che diventerà il secondo, terzo più pagato, allenatore in circolazione, ingaggio stratosferico. Ebbene, il fatto che Pioli vada là, dobbiamo seguirlo in chiave di mercato, magari ne parleremo in un prossimo video, ma porta anche a notizie positive per il Milan, per un risparmio di quel famoso ingaggio, che considerando anche lo staff, potrebbe essere di 8-10 milioni di euro, Repubblica sostiene che il risparmio dell'ingaggio di Pioli sarà di 10 milioni di euro, perché c'era stata sì quella comunicazione su risolto il contratto, però la risoluzione effettiva non c'è mai stata. Ora quindi Pioli, prima di andare in Arabia, dovrà rescindere il suo contratto con il Milan, quindi trovare l'accordo, e credo che il Milan risparmierà tutto il restante, e quindi avrà risorse maggiori per fare il mercato, sperando che non finiscano sempre in saccoccia, come temiamo spesso, ma che vengano utilizzate. Quindi è una buona notizia, un'ottima notizia il Pioli in Arabia. Poi Pioli in Arabia significa magari anche altre cose in ottica Milan, ma potrebbero essere positive, io credo che potrebbero essere sicuramente positive, o saranno sicuramente positive. Il risparmio? Il risparmio è chiaro che tutti abbiamo un pensiero su Joshua Azirze. Ecco, Repubblica sostiene che nelle scorse ore, in particolare ieri, perché questo è il periodo temporale, ci sia stato un contatto tra la dirigenza del Milan e Kiai Rabchan, che come sapete era Milano ufficialmente per sistemare delle cose legate alla fidanzata di Douglas Lewis che di mestiere fa la calciatrice, Aisha mi pare si chiami. Ebbene, dicevamo, ragazzi, se c'è questo incontro, se si incontrano bene, ma se non si incontrano forse dobbiamo lasciarcelo alle spalle e dimenticarcelo, perché non riapri la trattativa quando è neanche a Milano, significa che speranze ridotte all'osso. Ebbene, Secondo Repubblica ieri c'è stato questo contatto, non so se vis-à-vis, se telefonico, di che tipo, ma c'è stato questo contatto e Secondo Repubblica, non ho letto la firma, credo che sia il collega Curro che è sempre molto preparato, Secondo Repubblica il Milan e Zirze sono più vicini, considerando anche il risparmio di 10 milioni di euro, circa 8-10 milioni di euro, che il Milan avrà su Fonseca, su Fonseca, sì, su Stefano Pioli. quindi, l'indiscrezione è molto importante, contatto, più vicini, sfruttando anche il risparmio di Pioli, è un bel triangolo. E non solo, triangolo che fa, si incastra perfettamente con un'altra indiscrezione che è arrivata ieri dall'Inghilterra, che mi ha girato tra l'altro una persona in zona Milan, diciamo così, che racconta che cosa? La stampa inglese, secondo un collega molto preparato, il problema tra Manchester United e Zirze c'è e guarda caso, secondo il collega, sono le commissioni. Quindi, mentre ci hanno detto, ci hanno scritto, ci hanno raccontato, tutto fatto, tutto fatto, si può fare, l'accordo con le commissioni c'è già, lo paga l'Inghilterra in tempo zero, pare che in realtà anche per loro 15 milioni di commissioni richieste siano ritenute elevate ed eccessive. Se così fosse, ragazzi, capiremo il perché il Milan ha pazientato e magari scopriremo anche che questa però è una speranza, che quella di Zirze United sia stata una falsa pista orchestrata dal vecchio lupo di mare Kia e Rabchan per provare a ottenere il massimo dal Milan. Milan che resta su Joshua Zirze come primissimo obiettivo, se anche per altri problemi sono le commissioni e nessuno le ha pagate, insomma e se come scrive Repubblica siamo più vicini si può pensare positivo, io però ho sempre una paura, una paura sullo sfondo o in sottofondo, la dico magari anche a bassa voce perché non vorrei si realizzasse, più andiamo avanti, più secondo me c'è però il rischio che più che lo United rientri in corsa la Juventus con Tiago Motta che farebbe carte false per averlo, Juve che non può prendere tutti, ha preso Douglas, ha preso Turam, ha preso Di Gregorio e pare stia per prendere anche Cup Miners, sarebbe un colpo pazzesco purtroppo, se però la Juventus cede uno tra Sule e Chiesa, secondo me torna la carica per Zirze, ne paravo anche ieri con quelli che sono la Juventus e chiedevo ma tu senti di escludere un ritorno di fiamma di una Juventus che torna su Zirze, no, non lo escludo, mi è stato risposto, però in questo momento è più una forse paura perché siamo stati scottati dalle operazioni Turam, eccetera, eccetera, detto questo, questa mattina sembra essere una mattina positiva, questo mezzogiorno sembra essere un mezzogiorno positivo sul fronteggio su Zirze, forse siamo un po' più vicini o forse siamo meno lontani, diciamo così, rappresenta meglio lo stato della trattativa e in schezione quella di Repubblica è importantissima così come effettivamente quella del collega specializzato in mercato in Inghilterra che dice il problema tra United e Zirze sono le commissioni quindi anche lì un film già visto e quindi non tutto in discesa anche perché se è tutto in discesa perché United non l'ha già preso poteva prenderlo il primo di luglio se è tutto fatto accordo speriamo dai speriamo ragazzi dovesse arrivare Zirze sarebbe un colpo siccome è top ma non basterebbe lui e quindi poche cose ma come dice Furlani mirate mirate significa anche di alto livello non di livelli mediocri che devi sperare che inverta la ruota rispetto a una carriera fin qui magari buona o discreta a noi ci serve qualcosa di più del buono o del discreto scatenatevi con i commenti lasciate un bel like iscrivetevi qui ditemi che ne pensate di tutto un abbraccio ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti e commenteremo anche sul mio canale personale qui sotto c'è il link il calendario quindi mi raccomando seguiteci iscrivetevi anche lì un abbraccio